Buonasera e benvenuti. Siamo all'undicesimo numero di Baschettin. Abbiamo visto adesso in queste riprese quello che è accaduto ieri al Pala Mittubi. È accaduto davvero di tutto. A noi sarebbe bastato vedere una bella partita. Opponeva infatti questo confronto la prima della classe, la Mobaita, alla seconda Casal Pusterlengo. Invece sono successe tante altre cose. Purtroppo mi verrebbe da aggiungere ad iniziare dall'infortunio. Il terzo nel breve volgere di poche settimane è toccato ad Alessandro Infanti. Parleremo della sua situazione. È successo poi che si è venuta a Ferrara ad arbitrare questa gara molto importante. Una terna arbitrale assolutamente non all'altezza dell'evento. Con atteggiamenti provocatori. Con la solita malattia di protagonismo che di tanto in tanto prende gli arbitri. Quindi diciamo così hanno finito con il rovinare quella che doveva essere una festa. Però alla fine festa è stata. Mauro perché la Mobaita ha vinto con un secondo tempo straordinario per intensità e cuore. Portando a casa due punti. Mantenendo il primato in classifica. Per cui visto che abbiamo tante cose da vedere e tante cose da dire. Io direi che Baschettin può incominciare. Può iniziare. Andiamo subito a presentare nuovamente per chi ci ha seguito in linea bianca azzurra l'ospite della serata che è Julius Mace. Benvenuto Julius. Sicuramente uno dei protagonisti della gara di ieri. Però scusami. Prima a linea bianca azzurra hai fatto tutta un'introduzione in inglese straordinaria. Io direi per gli appassionati di Baschettin di ripresentarlo in lingua madre. Perché ho detto lei è il gengetto. We are proud to present Julius Mace. E l'ho detto la seconda volta. Che ha anche capito stranamente. Che ha anche capito strano. Quindi l'ho anche gestita bene. E con lui Vittorio Veronesi che ci aiuterà nella traduzione ma è anche responsabile dell'area marketing della Palacaneta Ferrara. Buonasera. Buonasera Vittorio. E intervenite linee aperte al 342 392 8252. Quindi scrivete, scrivete, scrivete perché mi sa che da casa siano pronti a mandarci dei messaggi. Ieri una gara davvero entusiasmante. Dicevi Dario però alla fine è arrivata una vittoria. E uno dei protagonisti è stato proprio il nostro Julius Mace. Al quale chiediamo di farci una fotografia di quello che è successo ieri al Palamit 2B. Poi tra un attimo vedremo anche Infanti. Vedremo tante cose abbiamo da proporvi. Però io direi di sentire Julius. Si dice che si sente molto bene rispetto al fatto che abbiamo vinto ieri. la squadra c'è e la partita di ieri ha sicuramente dimostrato che la squadra può affrontare le avversità in maniera solida. Sono successi tanti episodi. Il coach è stato espulso. Abbiamo subito quattro falli tecnici. Tuttavia, in più un giocatore si è fatto male. Tuttavia, la squadra ha reagito alla grande. Ecco, queste le sue prime dichiarazioni, però andiamo a sentire invece le dichiarazioni a caldo che ci ha rilasciato il presidente Fabio Bulgarelli. Abbiamo vinto con il cuore. Abbiamo vinto buttando il cuore di là dell'ostacolo, come aveva detto Adriano. Ci siamo uniti. Il pubblico ci ha dato tantissimo aiuto. Siamo rimasti la capolista e abbiamo battuto Casal Pusterlengo e quindi a quattro punti. Io ti chiedo se hai voglia di parlare dell'arbitraggio perché sicuramente, non lo so, mi verrebbe da pensare che a ogni partita in trasferta mi piacerebbe avere un arbitraggio così. Oggi, se non c'erano gli arbitri, forse questa partita la perdavamo. Ci hanno fatto arrabbiare talmente a tal punto che abbiamo tirato fuori una grinta, una cattiveria, una fame. Che è questa la vera forza di questi giocatori. Ed è questi per quello che noi dobbiamo ringraziarli e ci hanno dato questo spettacolo oggi. Perché noi abbiamo fame di vittorie. Questi sono dei veri gladiatori. Ci hanno messo l'anima. Ci hanno messo tutto quello che avevano. Ci hanno fatto arrabbiare. E noi abbiamo vinto. Tutto qua. L'infortunio di Infanti, l'ennesimo. L'infortunio di Infanti, spero che la sfortuna sia finita perché tre infortuni gravi, perché comunque anche quello di Andrea Oss è un infortunio medio grave. Adesso mi diceva il dottore che ha una distorsione al ginocchio destro, Infanti, quindi domani faremo tutti gli accertamenti. Spero che la sfortuna sia un po' finita perché è vero che possiamo sempre compensare con il cuore e con l'anima. Però, insomma, noi vogliamo giocare con dieci giocatori. Il campionato è ancora lungo. Io vorrei lanciare un po' di serenità. Adesso abbiamo fortunatamente anche un calendario un po' che ci aiuta. Non è detto che riusciamo a vincere. Però, insomma, i momenti difficili li abbiamo superati. Quindi, godiamoci questa vittoria. Stringiamoci un attimo. Ricarichiamo le batterie. In settimana, Fabio, avevi detto che nella presentazione di Flammini, che ormai abbiamo vestito i panni della squadra che vuole salire di categoria. Credo che dopo la partita di oggi non possa che essere rafforzato questo concetto anche in te. Sì, sì, ma queste esclamazioni, prima di farle, bisogna ragionarle molto bene. Perché è facile prendere delle cantonate. Sicuramente se è stata fatta questa dichiarazione è perché avevamo la consapevolezza di avere dieci, undici a questo punto ragazzi fantastici che ci possono dare delle grandi soddisfazioni come ci hanno dato oggi. Oggi è stata una vittoria che resterà, penso, negli annali. E mi piacerebbe rivedermela in televisione perché credo che sia veramente un bello spettacolo. E la rivedrà in televisione puntualmente. A Meis volevo chiedere, il Presidente ha detto ora che c'è stata una grande reazione della squadra proprio come risposta ad un arbitraggio che sicuramente li ha penalizzati e che ha un po' così alterato quelli che erano gli umori dell'ambiente. Lui cosa ne pensa? Ok. Lui era in campo, è stato uno dei grandi protagonisti di questa rincorsa. L'ha messa proprio dentro. Sì, sicuramente gli arbitri non hanno fatto... una grande performance. Tuttavia il fatto che abbiano commesso molti errori ci ha fatto diventare ancora più squadra e questo ha sicuramente contribuito alla risposta che noi abbiamo dato rispetto a tutte le avversità che abbiamo dovuto affrontare. quindi è molto importante che la squadra possa affrontare tutte le difficoltà nonostante gli arbitri facciano quello che fanno, nonostante facciano degli errori perché noi possiamo controllare quello che noi facciamo, non quello che fanno gli arbitri. Comunque molto sintonizzato con il suo presidente. Noi adesso andiamo a sentire, so che da casa volete che parliamo degli arbitri ma lo faremo più avanti, così vi teniamo lì perché abbiamo delle immagini che vi vogliamo proporre ma ci sono anche tante altre cose. Gli eventi hanno voluto che praticamente per tre quarti la partita fosse condotta in panchina da Alberto Seravalli che ha dimostrato ancora una volta di essere davvero molto bravo, molto preparato e molto freddo. Noi giustamente andiamo a sentirlo perché Adriano Furlani gli ha concesso l'onore della conferenza stampa a fine gara. Alberto, giustamente Adriano Furlani ha preferito che in tribuna stampa per la conferenza venissi tu. Hai vissuto in prima persona una giornata che si presta a tante chiavi di lettura. Una partita complicatissima, complicata ancora di più da un arbitraggio che sicuramente è stato molto penalizzante e per di più strada facendo l'ennesimo infortunio, questa volta a Infanti. Come mettiamo in fila tutte queste cose? Secondo me la prima cosa da valutare è un'analisi tecnico-mentale della partita, nel senso che al di là degli altri argomenti di cui magari accenniamo dopo, nel primo tempo non siamo stati bravi a limitare quelle che sono le loro caratteristiche, ovvero l'aggressività che loro mettono in difesa per sporcarti le giocate, mettere su un gioco molto fisico e il dominio al rimbalzo d'attacco. Adesso non mi ricordo le cifre del primo tempo, ma al rimbalzo d'attacco nel primo tempo ne hanno presi troppe occasioni di avere secondi tiri. Nel secondo tempo qualcosa è cambiato, nel senso che siamo noi che abbiamo iniziato a mettere pressione difensiva su di loro, abbiamo controllato meglio i rimbalzi offensivi, al di là di un paio alla fine per qualche svista, ma abbiamo preso in mano il controllo della partita, su questioni tecniche sulle quali ci eravamo preparati. Quindi sicuramente il piano partita è rispettato per metà, fortunatamente nella metà che contava. Poi secondo me il grande applauso che aveva fatto la squadra è quello di aver reagito a una situazione che vuoi la condotta arbitrale, vuoi l'espulsione di Adriano, che insomma non capita tutti i giorni che il capo allenatore venga espulso, abbiamo fatto una grande reazione e in particolare Michele, il capitano e Julius, nei momenti che contavano hanno preso in mano la squadra e ci hanno portato la vittoria fondamentale. Che cosa hai pensato tra te e te nel momento in cui Adriano Furlani lasciava il campo e è chiaro che a quel punto lì la condizione tecnica diventava tua? Per un attimo c'è stato un macigno che mi è caduto addosso in panchina, poi due pacche sulla spalla di Andrea e del dottore mi hanno fatto capire che al di là di tutto quello che poteva essere successo, che era una situazione anomala, alla fine c'era da giocare una partita di pallacanestro, quindi l'aiuto di Andrea e del dottore mi è stato fondamentale per sbloccarmi e pensare al campo essenzialmente. Poi dopo ho semplicemente riportato il lavoro che facciamo tutta la settimana. Con tanto distretta di mano, complimenti diretta di Dario, meritato. Bravo Alberto, però ieri purtroppo giornata funesta ancora per gli infortuni, come se non bastasse l'infortuni a Casa Dei, operato in settimana scorsa, poi quello ad Andreao sempre al ginocchio, ieri il crack al ginocchio di Alessandro Infanti. E purtroppo lo vediamo in una penetrazione, ha fatto tutto da solo, oggi è arrivato il risponso e intanto vediamo le immagini, quindi rottura del legamento crociato. Sì, un attimo prima aveva messo dentro una bomba, poi questa penetrazione, e qui già si capisce, vedete non appoggia nemmeno la gamba destra, si capisce che lui lì si è fatto parecchio male, il ginocchio destro è rottura del crociato anteriore, e qui vediamo la sua smorfia di dolore, credo che da questa faccia si capisca che davvero l'infortunio era molto serio. E d'altronde si ripete un copione già visto, lo vediamo, non appena il giocatore si fa male, purtroppo è il terzo in pochi giorni, il primo intervento è del medico del dottor Mario Capozza, poi per le prime cure del caso, poi si va tutti quanti alla Quisi Sana, dove c'è un altro amico del pallacanestro Ferrara, che è il dottor Merlo, che effettua la risonanza di rito, poi tutti a Bologna dal professor Lelli, al quale ormai Ferrara è purtroppo abbonata, il risponso per quanto riguarda la data dell'intervento chirurgico, che è programmato per mercoledì prossimo. Pensate, questa settimana... Mentre domani mattina toccherà ad Andrea Auso andare sotto i ferri, quindi comunque una settimana impegnativa per gli atleti della pallacanestro Ferrara, quindi due operazioni consecutive. Dario, un'assenza che pare non porti a immediate operazioni di mercato, quella di Infanti, che sostanzialmente ha finito la sua stagione, ma di questo parleremo dopo. Spot, regia. Bentornati, noi siamo qui in diretta con Baschettin, siamo con Julius Mace, con l'amico Vittorio che è venuto a trovarci con lui, ci eravamo lasciati al termine della prima parte di Baschettin, parlando di quelli che potrebbero essere le ipotesi, le prospettive di mercato legato all'ennesimo infortunio. Abbiamo detto che Casadei e Infanti sono fuori per tutta la stagione, Andrea Auso verrà operato domattina e si decideranno dopo i tempi di rientro, che comunque dovrebbero essere decisamente più brevi, però si pone il problema anche solo della gestione degli allenamenti. Adriano Furlani, molto obiettivamente, ha detto che non chiederà rinforzi alla società, che ha già dato molto dopo l'infortunio a Casadei con l'arrivo di Flammini, e fra un po' parleremo anche di lui, quindi si potrà eventualmente forse andare sul mercato, ma non per prendere giocatori di grido, solo qualora dovessero arrivare, credo, nuovi sponsor, e forse qui abbiamo anche l'uomo giusto, perché abbiamo l'addetto marketing questa sera per fare un po' il punto della situazione dal suo osservatorio. Vedo che arrivano tanti messaggi, se vogliamo approfittare... Arrivano tantissimi, direi tutti sugli arbitri ovviamente, perché ieri è stato un arbitraggio davvero di bassissimo livello, ma anche tanti complimenti alla squadra. Però direi che li mandiamo in onda, in sovrimpressione, perché la scaletta è fitta, e ieri c'è da sottolineare l'esordio di Flammini, che ha segnato pochissimo, quasi niente, però è stato un grandissimo difensore. Però prima noi abbiamo un paio di immagini che abbiamo voluto fare, giusto per ricordare Casadei e anche Andre Aus, che ieri hanno guardato la partita a bordo campo, eccolo qui, l'ottimo Casadei, che vedete già in forma smagliante, e lui dice la sua sempre, è importantissimo anche da infortunato. Quindi belle anche queste immagini. Poi abbiamo, e qui volevo il commento di Julius Vittorio, perché andiamo a vedere l'inizio dell'ultimo quarto, quello dove Ferrara piazza un break di 14 a 0, con il quale praticamente va a chiudersi questo incontro. Noi andiamo a vedere i canestri che hanno deciso la partita di ieri. Si incomincia con questa penetrazione del capitano, di Michele Ferri, che ieri ha fatto davvero il capitano a tutti gli effetti, una personalità incredibile, davvero una grande partita la sua. Poi è il turno di Julius, che va a insaccare questo arresto e tiro a un passo entro l'area, parabola molto morbida. E poi andiamo a vedere, qui veramente Ferrara è padrona del campo e Ferri ancora sugli scudi. E quindi, se è pronto Julius per dirci cos'è successo in questo ultimo quarto che vi ha visto così trasformati, ancora Ferrara segno con Julius, anzi no, chiedo scusa, con Jennings. Credo che abbiamo avvenuto in un altro livello. Inizia con Mickey a fare un grande gioco, poi ho avvenuto un gioco sul pass break, poi Mickey ha avvenuto in un altro gioco. E inizia con la partita di difesa, abbiamo iniziato a ottenere molti stop di difesa di Michele Ferri e anche io ho cercato di dare un contributo per portare la partita ad un'intensità maggiore. Eccolo qui. Adesso è giunto il momento, Mauro, di parlare di chi? New Entry. New Entry, Simone Flammini è arrivato in settimana a Ferrara dicendo chiaramente, attenzione, io non sono in forma, ma se non essere in forma è come quello che abbiamo visto ieri, può solo crescere. Noi abbiamo delle immagini di Flammini che ci fanno vedere la sua partita di ieri, si è messo al servizio della squadra, questo è il suo debutto in assoluto. C'era ancora Adriano Furlani in panchina, quindi siamo alla fine proprio del primo quarto. Lui entra in campo, sei mesi che non si allena, a reduce da un viaggio a Miami, il 5 con Benfatto, poi entra in campo e adesso vedremo che comunque il suo lo fa in quello che viene definito il lavoro sporco. Che idea ha Julius di Flammini? Mentre noi... Esatto, che è un giocatore dal palmarès è sicuramente di prestigio, perché lo ricordiamo nella sua carriera è sempre stato fra Lega 2 e Serie A, ha cresciuto a Pesaro e poi l'abbiamo visto anche a Bologna, insomma in squadre prestigiose con tre promozioni della Lega 2 alla Serie A. Julius? Io penso che sia davvero buono, sia aiutato il nostro team molto, sia aiutato a un altro livello, sia un altro tipo di energia, e a parte di tutto questo è un giocatore veterano, quindi sa come giocare, e questo è il suo primo gioco, e io ero molto orgoglioso di come giocare, e io ero felice di ottenere un gioco con lui in questo primo gioco. Sì, sicuramente Flamini è un giocatore che darà una grandissima mano alla nostra squadra e sicuramente il fatto che sia un veterano ci dà una sicurezza in termini di esperienza. Sono molto orgoglioso di come ha giocato ieri, dice che è molto orgoglioso di come ha giocato ieri, perché nonostante fosse stato il suo primo match, ha dato un grandissimo contributo, soprattutto dal punto di vista difensivo. Ecco, guarda, volevo farti una domanda proprio a te Vittorio, perché è giusto farla, l'abbiamo già introdotta prima. Abbiamo detto che forse la società potrebbe trovare le risorse per andare di nuovo sul mercato, però bisogna trovare risorse nuove. Come siamo messi, come risponde Ferrara alle sollecitazioni di una squadra che vince? Sì, nonostante il periodo socio-economico un po' complicato, la città di Ferrara ha risposto molto bene quest'anno, dal punto di vista delle sponsorizzazioni e per questo ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito a creare questo sogno, a portare avanti questo sogno che è la pallacanestro Ferrara. Ci tengo a ringraziare quindi sia gli sponsor che da due anni e mezzo ormai a questa parte hanno contribuito a una crescita continua della società, ma anche tutti i nuovi sponsor appunto che da quest'anno si sono aggiunti per permettere alla pallacanestro di garantire uno spettacolo ogni domenica al Pallamit2B. Posso citare alcuni che tengo a ringraziare in particolare, sicuramente i main sponsor Mobite, Dinamica Media, IBF Costruzioni, Vetroresina, ma anche tanti altri e poi nuovi sponsor fondamentali per noi come Gambale Tegole, Autodanieli, Sanibol e tanti altri. Vabbè, li abbiamo ringraziati tutti, speriamo ne arrivino anche degli altri perché è importante programmare, per programmare ci vogliono risorse. Noi adesso andiamo a sentire Flammini perché abbiamo parlato di lui ma andiamo anche a sentirlo. Eh sì, Simone Flammini nella intervista del dopo partita. Simone, la settimana scorsa di questi tempi credo tu fossi a Miami, stavi bene, al caldo, rilassato. Se tu avessi previsto tutto ciò? Ma ultimamente la mia vita ha fatto un po' di cambiamenti e questo fa parte del... ma è stata sempre così, quindi sono contentissimo che abbiamo portato a casa questa vittoria, questa partita e ho ringraziato i ragazzi perché poi non è facile entrare in un gruppo e tralasciando un po' il gioco, il loro vero gioco, il nostro in questo momento aspettando forse anche qualcosa in più da me cosa che in questo momento attualmente faccio molta fatica a dare però sono stati davvero bravi a volte avrei potuto anche usare un po' di più ma sinceramente non me la sono sentita mi è stato grande casa che durante il primo tempo ho detto adesso devi uscire fuori te, devi e ho cercato di farlo alla mia maniera come l'ho sempre fatto e magari credo che abbia dato un po' energia poi la partita è cambiata su due difese forti e pressioni di Michi secondo me Ferri quello che io poi cercherò perché è una mia caratteristica di trasmettere sempre ai compagni non che non abbiano anzi poi se siamo arrivati fino a qui faccio fatica adesso se sono ok molto grazie alla difesa questo è quello che mi hanno detto al cattiveria alla concentrazione al lavoro quotidiano e quindi è una cosa che dobbiamo portare fino alla fine e io sono qui per dare un contributo maggiore a questo non ti preoccupare Vittorio eccoci qui tornati di nuovo in studio ed è giunto il momento di parlare di arbitraggio ah so che hai qualche chicca qualche sassurino nella scarpa c'eravamo imposti già ieri in telecronaca assieme a tutto il pubblico del Palame 2B abbiamo detto quello che pensavamo l'abbiamo detto anche nell'apertura della puntata un arbitraggio scandaloso che ha portato ai quattro tecnici andiamo a vedere appunto con l'ausilio della regia quello che è accaduto qui è il primo fallo tecnico preso da Adriano Furlani che era reo di aver detto in maniera anche molto pacata devo dire l'infortunio a Infanti è esatto c'è già stato il primo l'infortunio di Infanti è la conseguenza del vostro metro arbitrale qui aveva allargato le braccia invocando l'evidenza di un fallo qui vediamo alcuni tifosi infastiditi da quello che è stato l'abbiamo detto più volte un atteggiamento provocatorio che stavo facendo io? ho visto che anche tu avevi le mani attorno alla bocca stavo ordinando le pizze io ordino sempre le pizze a quella lì perché ho fame poi qui abbiamo visto il tecnico dato a Spizzichini per un qua però te l'abbiamo visto anche tu mi hai perso l'estate io applaudo applaudo Spizzichini che aveva fatto un gran gesto però un messaggio dice provocatoriamente no proprio per protesta per protesta eccoli qui tre arbitri che tra l'altro hanno dato un tecnico anche nell'intervallo beh sì cosa piuttosto inusuale che comunque può capitare e comunque hanno sicuramente condizionato un ascoltatore ha scritto che li hanno li potevo prendere sul listone che trovavano degli arbitri migliori va bene comunque non sono serviti a frenare anzi come diceva il presidente come diceva anche Julius sono serviti a caricare ancora di più la squadra una cosa è certa uno spettacolo così io 33 anni che frequento il Palasport non mi era assolutamente mai capitato o comunque forse in pochissime altre circostanze noi adesso vogliamo un commento di Julius su un gesto tecnico e atletico che andiamo a vedere perché c'è stata una super stoppata che la regia ora può mandare in onda del suo compagno americano guarda eccolo lì io penso che sia la più bella stoppata mai vista al Palamite 2B e quindi Julius cosa ne pensa? non male oh no non male era davvero buono in realtà salvato il basket il ragazzo pensava che aveva un giro e Milton è venuto da non c'era è stato esplorato mi sono esplorato quando lo ha fatto anche se ho avuto il giocatore proprio dopo ma era davvero buono blocce sì è stata una stoppata fantastica Milton è saltato fuori dal nulla e praticamente ha spiazzato anche il giocatore che provava a metterla dentro Ricci ma purtroppo non ce l'ha fatta perché Jennings l'ha sorpreso così con questa grande stoppata super lord Jennings adesso è il momento è il momento della matteata credo no ci sono prima gli highlight ah va bene eccoli lì andiamo a vederli highlight Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.